Scatola, vedi, non c'è scatola Ok C'è scatola Qua pure ha detto, guarda qui Qui il cartello ce lo devi mettere Va bene, va bene Messo subito Messo subito Messo subito Qua pesce ce n'è Non c'è, non c'è, vado Vado, vado, vado Vado, vado Vado, vado E questo qua è cos'è? Vido, appena Vado, vado Vado, vado Questa roba qua è cos'è invece? Questo funghi Funghi cinese Funghi Il nostro interesse è che gli alimenti Che voi somministrate Che voi date a mangiare le persone Compreso il prodotto ittico, il pesce Che noi controlliamo Se ci sono condizioni genico-sanitarie compromesse come queste Costituite un fericolo per la salute Delle persone Ok? Qua sotto avete voto in cosa? No, vedi, una tagliatola Sì, 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 una tagliatola